Buonasera a tutti e a tutti, io vi rubo solo tre minuti, poi sparisco da questo palco, ma ci tengo a dire alcune cose. Intanto presento gli ospiti e le ospiti di stasera, abbiamo Judith Revelle dalla Francia in collegamento, grazie Judith di esserci. Alla mia destra c'è Sandro Mezzadra, Raul Sanchez Sediglio e il dibattito verrà moderato da Sandro Chignola. Permettetemi solo di dire due cose prima di questa discussione, intanto stasera come avete visto dal titolo parleremo di elezioni europee e a proposito di elezioni europee dalla foresta di Sherwood vogliamo mandare un grandissimo abbraccio a Ilaria Salis che è tornata finalmente libera dopo oltre 15 mesi di detenzione. Ci tenevo a dire un'altra cosa, abbiamo intitolato, questo è il secondo dibattito in second stage che facciamo, abbiamo intitolato tutta la parte politica e culturale di Sherwood a Tony Negri. Per noi era non solamente un omaggio, ma era anche l'ambizione a provare insieme a tante e tanti compagni a raccoglierle in qualche modo le eredità. Io ricordo l'ultima volta che Tony è stato su questo palco, era il 2013, tra l'altro un dibattito che parlava di Europa e Tony già prefigurava gli scenari che stiamo vivendo adesso, prefigurava che eravamo in piena austerità, prefigurava quel mondo multipolare, il fatto che la guerra comunque si stava ponendo come elemento centrale dentro il riassetto capitalistico, la crisi degli Stati Uniti, la crisi dell'idea di Occidente. Bene, questo ci tenevo a dirlo semplicemente per una cosa, in questo momento appunto per noi non è un omaggio, soprattutto voler prendere l'eredità ma in che termini. Tony ci ha insegnato, tra le altre cose, ce l'ha insegnata una che in questa fase credo sia estremamente importante, cioè vedere sempre le fasi, anche le fasi più oscure come quelle che stiamo vivendo adesso, sempre tenendo in mente una doppia forza, la forza del capitale che si riproduce, la forza dei dispositivi di comando ma anche la potenza della soggettivazione della moltitudine. Sempre questa è la prospettiva che poi è la prospettiva di complessità. Io credo che sia estremamente necessario avere questo sguardo, questa attenzione, questa attitudine in una fase come questa. Oggi parleremo di elezioni, lo abbiamo visto tutti, ovviamente non faccio spoiler perché ci sono persone molto più preparate di me a discutere di quello che è accaduto. Abbiamo visto un'Europa completamente spostata a destra, abbiamo visto, poi lo vedremo ovviamente nel lungo periodo, com'è quella logica del regime di guerra, dei blocchi di guerra probabilmente si amplifica dopo queste elezioni. Ed è proprio per questo che abbiamo necessità di avere in una fase del genere uno sguardo che è complessivo, così è un termine che dobbiamo riabituarci ad utilizzare nel nostro modo di far politica e nella nostra elaborazione. Finisco con due tre cose, due cosette. L'altro giorno abbiamo presentato il libro di Massimo Carlotto. Mi ha colpito una cosa che ha detto Massimo a proposito di letteratura del conflitto. Lui diceva che è possibile per un autore, per un intellettuale fare letteratura del conflitto nel momento in cui ci si sente vicini o ci si sente dentro a movimenti possibili o immaginati, possibili o pensabili ovviamente, concretizzabili. Io credo che questa sia una cosa importante. Perché lo dico? Perché questo dibattito è il frutto di un processo, di un percorso che abbiamo aperto compagni e compagni di varie parti d'Italia insieme a Euronomade. Questo perché? Perché proprio, torno a quello che diceva Massimo Carlotto, proprio in questa fase probabilmente abbiamo più bisogno che in altre fasi che ci sia un intreccio tra l'elaborazione, il provare a capire la fase ma anche il costruire terreni di iniziativa politica che guardino ad esempio sulla questione della guerra ad aprire non spazi di pacifismo to cure ma che aprano appunto una prospettiva di nuovo internazionalismo, una prospettiva di intersezione delle lotte. Non dico niente di nuovo ma è importante appunto che ci sia questo legame, questo intreccio ed in questo che è importante ci teniamo, ci tenevamo moltissimo a fare questa discussione che prosegue poi la discussione con Euronomade c'è stata alcune settimane fa a Roma proprio sul tema del regime di guerra di come la guerra si articola nei tanti aspetti del bios, della vita, dell'economia e quindi questa è una tappa, ce ne saranno altre, ci sarà un seminario che verrà costruito sempre in comune a Bologna sul tema della riproduzione sociale il prossimo ottobre e un altro seminario che ospiteremo noi qua in Veneto a Venezia sul tema del clima, bene il clima che è stato il grande assente dal dibattito sulle elezioni ma credo che su questo si aprirà nei prossimi anni un terreno importante di battaglia politica proprio attorno alla questione del Green Deal e lo dico perché il blocco tra liberal conservatori e reazionari già si è dato su questa cosa quindi non c'è niente che si può dare per scontato quindi è una questione sicuramente che nell'intreccio con il regime di guerra è una questione centrale. Io adesso lascio la parola a Sandro Chignola che aprirà questa discussione e ringrazio ancora tutti e tutte di essere venuti a questo dibattito grazie mille